Costanza Rocca. Centro Degrade. Parrucchieri. Un nuovo concetto di beauty destination in grado di avvolgere la consumatrice in un'esperienza multisensoriale unica. Una vision customer oriente dalla base della filosofia dei due brand, impegnati insieme per soddisfare ogni esigenza delle proprie clienti. Un metodo di colorazione unico. In una sola seduta creiamo stupende sfumature, copriamo capelli bianchi. Tonalizziamo le lunghezze e miglioriamo la struttura del capello. Una global beauty experience in grado di riunire, make-up, estetica, air beauty. Una vision customer oriente dalla base della filosofia dei due brand, impegnati insieme per soddisfare ogni esigenza delle proprie clienti. Costanza Rocca Style. San Giovanni in Fiore.